Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla FIPILI, tra Montelupo ed Empoli Est, chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni, con chiusura dello svincolo di Empoli Est in ingresso in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Bettolle per lavori, possibili disagi nel tratto tra Casetta-Monteaperti e Rapolano-Terme. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione e restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Sulla statale 64 Porrettana, all'altezza della Galleria del Signorino, restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!